Paura ieri ad Acilia per un grosso incendio scoppiato a pochi metri dalle case. Intorno alle 16 le fiamme sono divampate vicino a un vivaio di via padre Antonio Cocchi, nei pressi del parco di Ponte Ladrone, nella zona tra Acilia e Casal Bernocchi. L'incendio ha interessato un'area dove ci sono serre, bruciando alberi, plastica e sterpaglie, con le fiamme che hanno lambito anche alcuni palazzi. Sul posto i Vigili del Fuoco, con tre squadre da Ostia e dall'Eur, coadiuvati dal supporto di un elicottero, i volontari della protezione civile e la polizia, con il commissariato del Lido che, per precauzione, ha fatto evacuare i residenti di tre palazzine. Ad alimentare le fiamme il forte vento secco, una grossa nube di fumo nero visibile tra Dragone ed Ostia, si è contemporaneamente alzata in cielo. Per fortuna l'intervento tempestivo dei soccorsi ha limitato i danni e l'incendio è stato domato in un'ora, da appurare le cause che hanno generato il rugo.